Siamo arrivati, sì, Milano, Desi, siamo qui con le nostre valigette. Allora, non siamo neanche arrivati in hotel, in realtà ci siamo direttamente fiondate qua perché Desi non ci è mai venuta, quindi io l'ho portata a vedere. E adesso andiamo a posare le borse in hotel e poi ci approvinquiamo verso Arese questo lungo viaggio, dopo tre ore di treno, un'altra oretta sicuramente di viaggio per Arese, quindi vi portiamo con noi, oggi tra l'altro è il mio compleanno, un bacio! Allora, siamo appena andate in hotel che è questo qui e abbiamo lasciato le valigie. L'hotel, ve lo dico subito perché dopo mi scordo, Four Points by Sheraton e praticamente stiamo proprio all'uscita della Metro Gioia e c'è un palazzo fighissimo, quello che ci avevano fatto vedere anche a Riccanza, quello con tutte le piante sopra, è una figata raga, è bellissimo! e adesso che ci ripassiamo ve lo faccio vedere, tra l'altro stasera, non ho ancora detto, abbiamo prenotato lì le terrazze vicino al Duomo, maio, alle terrazze vicino al Duomo, perché alla mia festa bisogna andare a torsia principessa, ogni tanto io non vado mai in questi ristoranti così scicchettosi, ma era troppo figo, cioè, da fare almeno, quindi abbiamo prenotato ieri sera, abbiamo chiamato, quindi stasera poi andiamo là e adesso, come vi dicevo prima, ci accingiamo ad andare ad Arese, dobbiamo arrivare a Ruffiera con la Metro, poi prendere il 5 e qualcosa, tipo un autobus, una cosa così, adesso ci facciamo un pezzettino a piedini e vi faccio vedere anche il palazzo, ah, comunque non vi ho detto, perché sicuramente me lo chiederete, quanti anni faccio oggi? di 39 e poi dell'altro stamattina non vi ho ripreso perché ci siamo svegliate alle 5 per prendere il treno alle 6 e eravamo struccatissime, poi abbiamo dormito poco, tipo 5 ore, e quindi abbiamo fatto in tempo giusto a prendere il treno e vi ho ripreso con le due cosettine, però l'importante era riprendere qui, vedessi intanto che non so cosa sta facendo, che stai facendo? non vedi i messaggi comunque il palazzo che vi dicevo è questo qui, eccolo qui, cioè, dal vivo è tutta un'altra cosa, però questa è la Metro, qui c'è il palazzo, finissimo, siamo arrivate a Ruffiera, Ruffiera, proprio qui, oh scusa, Ruffiera, dobbiamo prendere queste cose qua, così accorciamo un pochino la distanza, e adesso cerchiamo il 581, tra l'altro, ah ve l'ho detto, ci siamo truccate sul treno, eh sì, ciao, 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 allora, abbiamo già fatto il nostro programmino, dall'altro, andiamo a mangiare da che, sì, io insomma quello che riesco, adesso poi vi farò vedere, poi naturalmente Primark, sei felice? Sì, molto, allora, lì c'è scritto linea 561, lo leggete, solo che ci sta quest'auto e quello laggiù, e non sappiamo quale sia, ce l'abbiamo fatta, allora diamo questo piccolo tip, perché altrimenti qua state come noi, allora, autobus verde, cioè una navetta verde, 5.61, quindi appena arriva, fiondati, il biglietto è questo qui, il biglietto lo dovete fare giù, dentro l'offiera, perché non lo fanno sull'auto, questo qui, biglietto urbano normale, 1,50 euro è stato a cavallo, yes, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, qui è pieno di gente, naturalmente perché è sabato, entriamo e mangiamo, comunque l'auto ci ha messo tipo 20 minuti, allora, si vede che siamo andate da Primark, io due buste e desi due buste, adesso merendina velocissima, contando che io prima non ho mangiato perché mi sono sentita poco bene, ma a dettagli, c'è a pranzo, sono le 3 qualcosa, e nulla, mi bevo il mio tè alla pesca, ci sentiamo dopo, eccoci qua col carrello perché Ilaria sta per svenire e stiamo andando nel centro commerciale perché Desi deve passare ancora in un po' di negozi, e niente, quindi è andata così, hai mangiato troppo, siamo in ascensore, io non potete capire, avrò mangiato tipo 50 calorie oggi e ne ha bruciate più di 600, quindi sto a corto di energie, è vero Desi, oh c'è qualcuno, mi chiede a mangiare 6 mila, ecco qua c'è ma guardate, anche sono questi spiazzi, e poi lì c'è Primark, aspettate, zoomiamo, ma abbiamo già dato, anzi mi sa che dopo andiamo a prenderci un borzone, ragazzi non mi sembra vero ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in hotel, eccolo qui, facciamo vedere la vista che è carina su questo balconcino, così, questo è il letto, scrivania con tutte le cose, poi qui c'è Desi con i piccoli omocini, e il bagno, io fantasticavo su questa vasca perché papà ha proprio voglia, però siamo in ritardo per la cena di stasera, che tan 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 è super figa, quindi adesso ci prepariamo, a prima ci riposiamo un po', ci prepariamo e poi usciamo, comunque questo è il bagno, ve lo faccio vedere molto velocemente, e tra l'altro penso che ci vestiremo, almeno io, con alcune cose che ho comprato, quindi vedrete una preview, dove ho messo le cose del wifi? Aspetta, 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 ecco, bene, questa è una scelta da vedere, cosa devi fare l'arma, devi mettere il giacchetto, no vabbè, quindi sono le 7.40 Desi, ci abbiamo mezz'ora, che poi appunto dobbiamo riprendere la metro, andare al Duomo, che lì c'è poi il ristorante Pronti, partenza, ci vediamo dopo al look finito Allora, prima non vi ho detto, stavamo facendo il check-in, e la signorina praticamente ha visto sul documento che sono nata oggi, il 22 aprile, e adesso ci suonano in camera, ci bussano praticamente, guardate cosa mi hanno dato Tan 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 Cioè, torta con la mia candelina, quella che tu non mi hai comprato per sospiare la torta Sì, facciamo, guardate che carina, qui c'è scritto, che cos'è questa bussa desi? Oddio, c'è un pesco No, secondo me è tipo un voucher, sai che lo puoi riutilizzare E la torta, c'è il tiramisù No, e poi tutto questo in 5 minuti, perché siamo arrivati 5 minuti fa Fantastico Allora, velocissimo outfit che poi dobbiamo andare Magliettina nuova, poi la vedrete meglio Leggings, scarpe E il giacchettino di pelle sempre nuovo E soltanto che dovrò lasciare La macchinettina a casa, poi ho fatto un trucco un po' più glowy E sì, a casa, vabbè, qui in hotel Quindi vloggerò con il telefono la prossima parte Guardate quanto è bello il Duomo con questo cielo Sono le 8 e mezza È bellissimo E adesso noi andiamo a cenare là sopra Quindi vedremo poi come si vedrà Sarà una cosa fighissima Desi praticamente ha fermato una e ci ha fatto la foto Giusto? Oddio Oddio Adesso dobbiamo solo trovare il punto dove entrare No, eh, dobbiamo entrare la rinascente Talendo i piani della rinascente che sono infiniti Infiniti C'è Miao Desi, ma dove ti ho portati? Guardate che bello questo Aperitivo e qui la parte cena Dove mangeremo noi Wow, 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 wow Ah, questo tiene Sì Sì Io mi sento in paradiso In paradiso In paradiso Adesso che tramonta pure Ci sta tutto, guardate che bello Allora abbiamo appena finito di mangiare Com'era? Buono Buono e bellissimo soprattutto Ve lo ripeto da fare almeno una volta Alla fine non abbiamo pagato neanche tantissimo anzi Adesso vi metterò la foto dei piatti Perché non ve l'ho ripresi Buone Buone Il mio particolare Poi vabbè sapete che Insomma io non è che riesco a mangiare più di tanto Quindi ecco abbiamo lasciato un po' Però a parte questo carino Poi se volete vedere tutte le foto trovate tutto su Instagram Sul mio Instagram E adesso ci stiamo facendo tutti i piani della rinascente Per tornare giù Perché abbiamo appurato che l'ascensore non si può utilizzare Adesso Duomo by night C'è un vento della Madonna Io mi sono portata lo sciale Ma naturalmente l'ho portata Anche io ce l'ho Adesso no Però ci stiamo vedendo probabilmente Ci stiamo facendo tutto il giro del Duomo Perché ero curiosa E adesso rispuntiamo qua alla Mondadori Adesso poi torniamo in hotel Ehm Ilaria si fa la Il bagno nella vasca Ehm Oddio Faccio il bagno nella vasca Che l'ho sognata tutta la giornata Vi aspetterò Vi giuro Adesso poi aspetta il pianto mio Ok siamo tornate in stanza Siamo sfinite Davvero sfinite Adesso mettiamo un po' a posto i bagagli Ci laviamo Ci mettiamo in pigiama più comode E nel mentre stiamo guardando amici su questo mega televisore Quindi vi diamo un bacione Ci vediamo al prossimo vlog Perché penso che domani non riprenderò A far solo questo di oggi E vuoi dare buonanotte Un tedesimo venire a salutare Ciao Notte è un piacere Grazie a tutti per gli auguri Che sicuramente alcuni me li avranno scritto qua sotto Appunto al prossimo vlog E niente Ciao 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 Grazie a tutti.